Una grande soddisfazione, siamo andati molto bene, abbiamo stravinto, quindi siamo molto soddisfatti. Mi sembra che funzioni il buon governo e la stabilità, quindi penso che l'Abruzzo, come anche tutta la nazione, procede per il verso giusto. Per Forza Italia è un vantaggio anche che Forza Italia stia rendendo più voti della Lega? È andata bene, ma guardi, io non entro nella dinamica degli altri partiti, mi occupo di Fratelli d'Italia, quindi sono molto soddisfatta per il risultato di Fratelli d'Italia.